Siamo veramente contenti noi del pregio di annunciare questa band, un progetto estremamente interessante che si chiama War Morn. Vi preghiamo noi del pregio, incorporei, di fare a War Morn un grandissimo, grandissimo applauso. Si può fare un grande applauso a War Morn? Signore e signori, ecco voi, i War Morn! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!